Che c'è per cena, mamma? Spaghetti? Riso e pollo? No, qualcosa di molto più speciale! Ma la zuppa di spinaci della bisnonna! La miglior ricetta segreta in assoluto! Il mostro mangia bambini della palude di spinaci colpisce ancora! No! Nina, è soltanto una zuppa! È una zuppa deliziosa! Allora mangia anche la mia! A me non piace la palude... La zuppa di spinaci! Nina! Polpette di pesce? Oh no! Mettetela! Andate via! Ma che cosa sta facendo, Nina? Ma, Nina, sicura di stare bene? Sì! Tutto bene! Facevo degli esercizi di calcio! Posso avere il pizzico, per favore? Buone queste polpette di pesce! Volete i miei squali? Cioè, polpette di pesce? Sì! Grazie, a me piacciono tanto! No! Fino affettuosissimo oggi, Nina! È super appiccicoso! Nina! Teo! Ciao! Oh, ciao! Su, giù, amiche sempre più! Vi vedi venire a casa della Luna? Sonia preparata di spuntini! Giusto in tempo! Muoio di fame! Già, ok, ci sto! Oh oh! Penso che Pino voglia qualche cosa! Che fame! Come sarà finita lì dentro? Non ho la mia idea, ma è il momento di andare!